Buongiorno. Buongiorno. Per la registrazione, quindi di nuovo buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro, il nostro incontro mensile con il GeoBreak. Oggi il titolo che abbiamo dato a questo incontro è strumenti GIS per la gestione dei servizi di igiene urbana, anche se è un titolo un po' restrittivo perché in realtà quello di cui parleremo oggi saranno una serie di strumenti, non solo GIS, che sono il frutto della collaborazione di GTR con il sistema ambiente e hanno portato all'integrazione di vari strumenti GIS, web GIS e non solo, appunto per la gestione delle attività di sistema ambiente che è appunto la municipalizzata che si occupa del servizio di igiene urbana nel comune di Lucca, se non sbaglio solo nel comune di Lucca, poi mi correggeranno se non sbaglio. E quindi oggi li abbiamo invitati per sentire dalla loro viva voce la loro esperienza e come abbiamo cercato di lavorare appunto per fornire gli strumenti per la gestione appunto delle loro attività. Lascio quindi la parola, non so se a Maria Teresa o a Giovanni, appunto loro sono Maria Teresa Molendi e Giovanni Cascini di Sistema Ambiente, per una presentazione più puntuale, lascio a voi la parola. Grazie Giovanni, grazie Maria Teresa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io faccio una piccola introduzione di quello che un po' ha già accennato Rossella, che è un'azienda di gestione rifiuti sul territorio unicamente del comune di Lucca e abbiamo cominciato, diciamo, ad implementare i nostri servizi sul GIS, praticamente facendoli interagire con tutta una serie di applicativi che l'azienda aveva già in essere. Ora, noi abbiamo preparato qualche slide per, diciamo, sintetizzare quello che è stata la nostra esperienza con il GIS e con l'interazione del GIS sugli applicativi. Ora tolgo un attimo il mio video, condivido invece lo schermo e vi faccio vedere come siamo partiti con questa interazione. Spero riusciate a vedere tutti la prima pagina, diciamo, del... Sì, si vede, si vede correttamente. Ok, ok, perfetto. Allora, scordiamo questo qui. Ecco, i software praticamente che erano presenti in sistema ambiente spaziavano un po' dalla parte tariffa alla lettura dei tag RFID sul territorio, a dei contenitori che qui vedete indicati come idea gestione dei garbi, quindi sono dei contenitori informatizzati, apribili con tessera RFID, associata ad ogni contribuente, diciamo, del centro storico di Lucca, dove le persone appunto possono conferire i rifiuti. Più avevamo la parte del GPS, della localizzazione, diciamo, dei mezzi sul territorio, e più avevamo Winsmart, che è, diciamo, della computer solution, quindi della Zucchetti, per la parte della schedulazione servizi. Ecco, tutti questi applicativi sono stati integrati all'interno di un progetto GIS, che ci ha curato appunto Rossella come GTR, e ora io ve li presento velocemente, poi il mio collega nello specifico vi farà vedere come siamo andati avanti. Quindi, vi stavo dicendo, benché ogni software lavori in maniera autonoma e possa essere consultato singolarmente, sono state sviluppate interazioni e aggregazioni tra essi, così da ottenere dati utili per l'ottimizzazione dei processi. E quindi sinteticamente, ora passo la parola a Giovanni, applicativo per applicativo, vi farà vedere cosa abbiamo importato all'interno del GIS, affinché questo possa essere utile, diciamo, alla gestione dei servizi. Passo la parola a Giovanni. Allora, faccio una breve premessa, poi condivido anch'io la presentazione. Noi siamo l'azienda che gestisce l'igiene urbana, il Comune di Lucca, e il Comune di Lucca, non so se tutti voi la conoscono, è formato da un centro storico abbastanza all'interno di una cerchia muraria, in cui svolgiamo non una raccolta porta a porta, ma una raccolta dei rifiuti con isole ecologiche, cui conferiscono tutti gli utenti tramite testere. Questi sono i garbi a cui ha accennato prima la collega. E fuori nella periferia del Comune facciamo un servizio tipo porta a porta, più ci sono altre isole sui condomini o altri, però, quindi abbiamo... Aspettate che ora condivido lo schermo e se non mi perdo... Invio la richiesta. Eccoci. Vedete la presentazione? Rossella, mi comprendi? Non ancora, in questo momento. Potresti anche lasciare... Aspetta. Potresti anche lasciare la condivisione solo a uno dei due e poi vi alternate... Io ora per la riuscita un attimo, però va bene. Ora la dovresti vedere. Sì, 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 corretto. Va bene, fondamentalmente. Quindi questi sono i vari applicativi che avevamo. Questa è la prima visione che avevamo dalla piattaforma Way di Team dei nostri mezzi sul territorio. E questa è la schermata della schedulazione servizi, dove si vedono le varie risorse. Ora, facciamo una carrellata. A volte non si capisce bene come si è interfacciata col GIS o altro, però alla conclusione di tutta la presentazione capirete come si sono interfacciati con il GIS. Queste sono... Abbiamo le varie descrizioni dei servizi, la durata e le risorse, che sono le persone, poi che si abbinano anche ad un mezzo, in fondo vedete per esempio Porter Maxi, in questo caso. che il nostro addetto turni predispone i giorni antecedenti o per i giorni successivi, di solito uno o due giorni prima e poi il giorno precedente assesta le ultime correzioni in funzione di eventuali assenze dell'ultimo momento o altro. Questa è la prima visualizzazione del primo lavoro che abbiamo fatto sul GIS, ovvero la periferia di Lucca divisa in tre colori, rosso, blu e giallo, perché la raccolta porta a porta nel territorio comunale viene svolta secondo tre calendari di raccolta, ovvero nella zona blu, per esempio, faccio per dire, non mi ricordo di preciso, però la zona rossa, sì, il martedì abbiamo la raccolta della carta svolta la mattina, contestualmente la mattina nella zona blu dello stesso giorno facciamo un altro rifiuto, mentre la zona gialla più periferica viene svolta nel pomeriggio, sempre con un altro rifiuto. Quindi abbiamo inizialmente sul GIS definito le varie vie di raccolta e abbiamo categorizzato gli attributi per nome della via, il giro che esegue, l'operatore con quel giro che esegue la raccolta e conseguentemente interfacciandosi poi anche con quello che vedremo dopo, le utenze che abbiamo a tariffa, sul nostro gestionario della tariffa, si poteva valutare i carichi di lavoro. In questa schermata si vedono anche i mezzi, quindi abbiamo, il primo passaggio è stato 102.27, per esempio, vedete, è la codifica interna nostra di un mezzo addetto alla raccolta, 01819 è una panda degli assistenti, sono codifiche nostre, in cui si vedono i mezzi sul territorio, quindi si interpaccia con la piattaforma Way. Andando avanti, poi abbiamo, io vado un po' a braccio perché me le ricordo, poi a volte non seguo le slide, scusatemi. Comunque sì, come vi dicevo, abbiamo interfacciato anche il gestionario della tariffa che con il numero delle utenze sul territorio, non che incidono su ogni giro. Questa è l'immagine della nostra sala assistenti, dove abbiamo installato un tableau, il nostro amministratore delegato ne va orgoglioso, in cui abbiamo la visualizzazione del gisosting, che è poi quella che avete visto nella slide precedente, i nostri assistenti possono avere la visione anche del giro, a volte anche sapere dei calendari di raccolta o i mezzi dove sono o altro, per ottimizzare un po' il servizio quasi in tempo reale. Garbage, come abbiamo detto, è il nostro gestionale della tariffa, dove sono, è più esperta Maria Teresa di questo, comunque sono presenti tutti, tutte le utenze a tariffa e altro, che tramite l'aiuto di Rossella è riuscito a interfacciarsi con il gis, e quindi da questa visualizzazione che è una zoomata di quello che vedevate prima, in cui vedete, qui siamo nel calendario rosso, perché la visualizzazione è stata fatta in modo tale che si veda le vie con il contorno rosso, il calendario principale di raccolta, e il colore interno rappresenta il giro, per esempio quello verde che sto indicando adesso è il giro 7 del calendario rosso, che fa la raccolta in queste vie. Interfacciandosi con Garbage, il sistema ha potuto definire il carico di lavoro, di raccolta di quel giro, tra utenze domestiche e non domestiche. Poi anche qui purtroppo nella pratica non è proprio realistico, ma questi sono problemi che miglioreremo, ottimizzeremo nel tempo, perché abbiamo anche utenze non attive, utenze non a tariffa, vari problemi che non sto a lencarvi adesso, però era per mostrarvi le funzionalità che abbiamo implementato grazie al contributo di Rossella. Dando avanti, il Comune di Lucca ci ha fornito i civici del Comune di Lucca, perché l'obiettivo del progetto iniziale, che c'è ancora però dobbiamo sistemare, è anche riuscire ad utilizzare il GIS per una raccolta puntuale, ovvero alcuni giri di raccolta, ad esempio la raccolta dei pannolini che viene fatta su richiesta, la raccolta aggiuntiva dei pannolini fatta su richiesta degli utenti che ne hanno bisogno, può essere svolta utilizzando la geolocalizzazione dei civici che ne fanno richiesta, però abbiamo un problema, come si vede da questa slide, perché il nostro lavoro è stato anche di di matchare i civici del nostro gestionale con quelli del sit del Comune e come vedete alcuni non tornano, alcuni corrispondono, quelli cerchiati di verde, alcuni non hanno corrispondenza tra il nostro e quello del Comune, altri, tipo i civici zero, che non mi ricordo neanche bene perché venivano codificati se da noi o da noi, dal nostro gestionale, perché non erano ben chiari all'inizio. Comune, perché altro direi proprio nell'indirizzario comunale erano codificati in questo modo, quindi un indirizzo geolocalizzato ma senza il civico. E quindi è una cosa ancora da fare, però c'è bisogno di un lavoro quasi emanuenze perché bisogna andare sul territorio via per via a verificarlo perché in automatico non si può, almeno a mio giudizio. Andando avanti, poi se mi dilungo troppo ditemelo, comunque andando avanti, quindi abbiamo detto il GIS, la schedulazione, tariffa e GPS, la schedulazione dei servizi, il nostro obiettivo era anche quello dell'eliminazione della carta, i nostri operatori inizialmente il giorno precedente andavano in bacheca e vedevano il servizio che avrebbero dovuto svolgere il giorno successivo, l'orario, il turno, mattina, pomeriggio, l'orario di ingresso o altro, in bacheca. Ad oggi siamo riusciti ad implementare, vado avanti così lo vedete, l'interfaccia tramite un bot di Telegram di quello che veniva codificato il lavoro che fa l'addetto turni comunica direttamente attraverso un bot sul cellulare dell'operatore che accede con il suo numero di tessera come vedete qui facendo il comando servizio a quello che è stato a lui assegnato nei giorni successivi. Qui vedete per esempio era il 30 luglio del 2021 e il giorno successivo il 31 luglio del 2021 che poi cliccandoci dava Lucca raccolta porta a porta periferia porter uno calendario rosso multimateriale e in alcuni servizi c'era una mappa disponibile in altri no però quest'altro è il link che poi avrebbe concesso al cellulare dell'operatore di andare a visualizzare la mappa sul cellulare. Non è un navigatore purtroppo perché anche i giri di raccolta non conosciamo bene l'ordine con cui vengono svolti dall'operatore e non li abbiamo ancora codificati per poter implementare poi questo Rossella ce lo saprà spiegare meglio però una vera e propria navigazione non era al momento possibile comunque è uno strumento che già dice senza andare in bacheca all'operatore senza neanche dover magari a casa vedere il proprio servizio il turno del giorno successivo e anche se non conoscesse proprio la zona comunque vedere la mappa che deve fare. quindi questa è la nostra bellissima bacheca che ora ha alcuni fogli in meno quindi abbiamo parlato anche dei dispositivi smartphone e questa è un'altra cosa che non ci interessa molto era l'officina che per la gestione delle manutenzioni dei mezzi penso che bloccasse i mezzi sul sistema nostro di schedulazione quindi anche il nostro addetto turni non poteva assegnare al servizio un mezzo scusate mi è rimasto nella presentazione però era una cosa in più e altra cosa l'ultima che abbiamo sviluppato e che secondo me funziona un bene è molto utile è l'implementazione del software che fornisce la lettura dei tag una volta che vengono svuotati i cestini per il decoro urbano del centro storico nel nostro centro storico abbiamo e anche nella periferia qui è lungo si vede anche il parco fluviale abbiamo installato dei tag RFID su tutti i cestini pubblici e i nostri operatori che vanno a svolgere la raccolta sono muniti di bracciali questi bracciali sono gli stessi che utilizziamo non ve l'ho detto anche per la raccolta del rifiuto indifferenziato del porta a porta perché la tariffa puntuale prevede viene corretta sulla base dei conferimenti della raccolta dell'indifferenziato al fine di incentivare la raccolta differenziata però abbiamo implementato questa cosa anche sui cestini e quindi possiamo vedere che i cestini per esempio questo che è evidenziato sulle mura è un cestino nel centro storico ora si legge male dallo screenshot c'è il volume di 150 litri e il colore verde vuol dire che è stato letto quindi svuotato da meno di 6 ore giallo se sono passate più di 6 ore fino non mi ricordo bene se erano 24 rosso che vuol dire che non è stato svuotato da più di un giorno questo è quello che abbiamo fatto fino ad oggi e su cui stiamo andando avanti come faccio a interrompere la presentazione e quindi se avete domande chiedete pure a Rossella che è più esperta scherzo se volete possiamo farvi vedere quello che abbiamo fatto che si vede da Giz Hosting poi se no ce l'ha anche Rossella quindi a disposizione grazie grazie Giovanni grazie anche Martiresa che un po' si nasconde comunque diciamo in cioè siete riusciti a condensare alla fine in una mezz'oretta il lavoro comunque di quasi un anno perché ormai direi quasi un anno che siamo in contatto e nelle varie fasi di lavoro quindi abbiamo man mano aggiunto componenti per cercare appunto di diciamo di mettere in comunicazione vari strumenti che utilizzate quotidianamente e cercando appunto di avere una piattaforma comune in cui appunto integrarli e renderli accessibili mi ero segnata un paio di cose da approfondire su cui diciamo fare diciamo dire due parole in più prima eventualmente di riguardare poi diciamo direttamente di sosting ed erano da una parte la prima cosa che mi veniva in mente riguardava l'integrazione col comune cioè col comune con l'indirizzario comunale che diciamo hai citato Giovanni che effettivamente è stata un'attività inizialmente diciamo cioè inizialmente data quasi per 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 fattibile cioè in una prima fase ipotizzavamo di incamerare direttamente la banca dati comunale all'interno di Gsosting come se fossero sovrapponibili la banca dati tari e la banca dati comunale in realtà poi ci siamo accorti che c'era uno scostamento importante tra le due banche dati e nessuna delle due probabilmente aveva la verità e quindi quel lavoro certosino di cui parlavi prima di correzione e da una parte e dall'altra è diventato un po' necessario e diciamo non mi stupisco del fatto appunto che non si è terminato ecco perché penso sia un obiettivo di medio termine quello di avere un allineamento diciamo delle due banche dati ma su questo mi dicevate che avevate appunto chiesto in parte la collaborazione anche delle delle istituzioni penso che diciamo per aziende come la vostra appunto sia abbastanza fondamentale questo tipo di comunicazione no il comune fondamentalmente voleva alla fine sbolognarci a noi il lavoro gli si ridava il database corretto però il problema è che anche noi avevamo delle inesattezze storiche del nostro dei civici del nostro database cioè non è che tutto tornasse come hai detto te Rossella alla fine era un lavoro diciamo in parte corretto da sistema ambiente in parte doveva essere corretto dal comune di Lucca ora di fatto poi queste correzioni volevano significavano scendere sul campo quindi sul territorio e verificare civico civico quindi ecco al momento queste cose quelle inesattezze almeno bisognava scendere sul territorio e verificarle che in un momento siamo in stand by perché ci mancano forza lavoro proprio uomo sì diciamo che da questo punto di vista in tempi magari non condizionati dalle diciamo dalla pandemia dal covid c'era anche balenata in mente l'idea di proporvi una sorta di attività diciamo di diciamo che coinvolgesse gli utenti ad esempio nella mappatura una sorta di mappa non so come si chiamano a volte queste attività ora non mi viene il termine il termine corretto però diciamo viste le tempistiche noi abbiamo iniziato in realtà poi l'anno scorso all'inizio proprio dell'anno 2021 quindi non ci sembrava il caso di proporre niente diciamo un'attività che raccoglie che andasse a coinvolgere troppo persone ecco non era non era il caso però però va bene diciamo comunque effettivamente in questo senso dicevo che appunto è un obiettivo di penso di medio termine ecco non realisticamente diciamo raggiungibile raggiungibile a breve nulla poi un'altra cosa che mi che mi diciamo volevo approfondire con voi riguardava la il bot telegram e in particolare eventuali futuri sviluppi cioè non solo come attualmente è configurato cioè nella gestione dei servizi ma una cosa interessante che è emerso nel corso dell'anno tra di noi che appunto ci sarebbero in realtà possibilità ulteriori ovvero ad esempio la gestione di una sorta di comunicazione tra la sala controllo se non sbaglio si chiama così e gli operatori che sono sul campo ecco questi sono degli spunti era uno spunto che era emerso non so se poi dalle vostre riflessioni era emerso qualcos'altro in questi termini alla fine senti erano emerso queste cose qui quello che dicevi tu cioè poter avere una messaggistica come dire istantanea aziendale su tutti gli operatori o su un operatore in particolare utilizzando il vostro bot telegram e l'altra diciamo cosa che era venuta fuori era nel gs hosting che segue la parte che importa i dati dal gps attualmente si vedono i mezzi che sono comandati in servizio che sono attivi sul territorio in realtà è venuta fuori l'esigenza di poter vedere anche quelli che sono fermi quindi che stazionano i nostri impianti dislocati sul territorio in maniera che l'assistente possa avere proprio prontezza di tutto quello che c'è sul territorio a disposizione cioè capire quelli che sono in servizio e quelli che sono a disposizione fermi quindi questa era un'altra cosa un'altra necessità che è immersa diciamo che stiamo valutando se è implementabile beh diciamo che essendo partiti da strumenti piuttosto diciamo flessibili nel senso sono ovviamente possibili integrazioni il bot telegram si può diciamo integrare ad esempio di ulteriori funzionalità come anche diciamo il piano di sosting che avete si può tranquillamente integrare con tutti i progetti di cui avrete bisogno e altra cosa non so se nella spiegazione Giovanni ve l'ha detto sul bot telegram per esempio è implementata anche la funzione che sta fa una funzione implementata in un secondo momento degli assistenti in turno al momento dell'interrogazione debozza sì ciò permette diciamo quindi all'operatore sul campo di sapere chi eventualmente contattare in centrale in centrale sì proprio diciamo a questo proposito diciamo visto che siamo in questo contesto un po' anche quasi informale mi veniva in mente una domanda che è più una curiosità ovvero il lavoro che abbiamo fatto in realtà oltre ad essere uno strumento di gestione in realtà una ricaduta operativa e che quindi coinvolge in un certo senso il lavoro di numerosi operatori ora non so esattamente quanti sono gli operatori che vanno sul campo e diciamo la mia curiosità era sapere come è cambiato come è cambiato diciamo il lavoro operativamente qual è stata l'accoglienza da parte degli operatori potete dire anche che non è che non è stata positiva inizialmente siamo sinceri tanto come tutti i cambi non sono mai presi in modo positivo in realtà poi dopo aver spiegato come funziona il bot dopo aver capito che alla fine uno in tutta comodità la sera precedente può vedere il giorno dopo che cosa dovrà andare a fare effettivamente poi anche gli operatori sono tutti soddisfatti ecco di questa cosa qui ed è molto comodo molto comodo perché spesso che cosa succedeva quando uno era fuori si era dimenticato di leggere il tabellone chiamava il collega mi guardi che cosa sono a fare domani mi sono dimenticato di leggerlo effettivamente l'autonomia tutti vedono i propri compiti del giorno successivo e quelli dopo poi non lo sappiamo di tutti tutti però magari qualcuno più old school ci sono che ostico che ostico alla tecnologia però indicativamente abbiamo cento 120 130 persone quindi diciamo che nella maggioranza ecco è stato preso positivamente questo passaggio va bene non c'è giovane di più questo che vi ha fatto vedere le varie sarebbe carino se avessimo i civici corretti nella parte per esempio di raccolta dei pannolini che è più puntuale secondo me è più fattibile mettere poi un algoritmo poi Rossella magari mi corregge che consente all'operatore di svolgere il servizio sapendo bene il carico delle utenze che ha da raccogliere e anche un itinerario più corretto quindi una sorta di navigazione punto a punto dei dei masterli da raccogliere però queste sono tutte implementazioni che purtroppo ci vuole più tempo e vedremo come svolgere però già anche questa dei cestini è un controllo del centro storico che è utile e ci rende più visibile il servizio che svolgiamo anche di raccolta cestini che fino adesso era più in mano al solo operatore rispetto alla questione dei pannoloni detta diciamo così come si è stata sovrannomenata così che è appunto la gestione delle servizi su richiesta delle raccolte su richiesta per dare un po' di contesto qual è stato il percorso per avere una gestione di questo tipo abbiamo realizzato una prima demo su dati parziali e per dati parziali intendo dati appunto di localizzazione delle utenze quindi basate sull'indirizzario comunale sulla indirizzario Tari e poi ci siamo un attimo diciamo abbiamo messo un attimo in stand by questa parte in attesa appunto della realizzazione di un cioè della correzione degli indirizzi almeno per quanto riguarda le utenze interessate della raccolta pannoloni questo perché diciamo per fornire in output una diciamo un percorso che sia appunto se non navigabile quanto meno calcolato ecco da appunto un programma dobbiamo fornirgli quanto più dati quanto più completi possibili in questo senso diciamo Giovanni diceva appunto che siamo un attimo in una fase diciamo ci vuole più tempo in ogni caso su questo tema abbiamo da un punto di vista più tecnico abbiamo realizzato insieme al collega Francesco Bursi diciamo un job break dedicato a cui vi rimanderei in cui parlavamo appunto degli strumenti per il calcolo dei percorsi a questo punto non so se vogliamo fare un breve tour dei progetti come suggerivi tu Giovanni vuoi ti lascio il allora mi faccio vedere il GIS hosting brevemente se vuoi allora ok intanto lo metto allora i progetti di su cui poi sono Rossella che siccome sa che la nostra mia soprattutto competenza GIS è molto limitata e ci ha dotato di strumenti in modo tale attraverso il web il GIS hosting che ci consentisse di lavorarci senza dover utilizzare direttamente il GIS poi se dico castroneria a livello dimmelo perché allora no ma tranquillo cioè diciamo che comunque in generale l'obiettivo di GIS hosting è proprio quello di fornire aspetta che è arrivata la richiesta di condivisione di fornire uno strumento diciamo più accessibile rispetto a QGIS desktop che ovviamente è anche lo strumento ideale per un tipo di attività che è finalizzata ad uno scopo preciso cioè per avere degli ambienti di lavoro molto in certo senso controllati perché poi si può appunto interagire diciamo a seconda del proprio livello di diciamo di di permessi e secondo le attività che sono state configurate nel progetto desktop quindi l'obiettivo è proprio quello quindi non non è non è diciamo non è un problema appunto come la descrivi questo è il nostro GIS hosting ci sono le tre repository che sono dove noi lavoriamo oppure in questo modo ci è stato utile anche perché la parte di cestini l'ha fatta un nostro operatore che si è dedicato a questo lavorando direttamente attraverso questo strumento senza doverli spiegare effettivamente il GIS o altro quindi faccio vedere subito l'ultima che è quella più fresca quella dell'editing dei cestini che su cui si vede Luca ora dovrebbe caricare non è velocissimo però mi avvicino eccoli questa è se noi andiamo vediamo che qualcosa viene fatto da meno di sei ore infatti sono partiti il nostro servizio parte intorno alle sei parte da non so se conoscete Luca parte dalle vie principali che qui c'è via Fillungo e poi quindi piazza dell'amfiteatro la famosa piazza ovale sulle mura un po' alcuni operatori sono ancora un po' ostici alla lettura del del gestino in alcune zone comunque stiamo lavorando per questo e questo è se ci clicco su uno ci dà l'evidenza di quello che si era già visto nella presentazione qui da questo strumento con questo strumento noi potremmo anche modificare ora non mi ricordo Rossella come si faceva a modificare il terzo la terza ecocina partendo dall'altro è lo strumento di editing che eventualmente permette di o aggiungere cestini oppure modificarne gli attributi questo va ad agire non sulla tabella dello status dei cestini ma proprio sull'anagrafica dei cestini che contiene appunto tutte le informazioni che di volta in volta vengono e diciamo fornite dai bracciali quindi non c'è stata la necessità di fare un censimento sul campo dei cestini ma di volta in volta che venivano letti i diciamo i bracciali volta in volta che venivano letti i diciamo i bracciali dai cioè i cestini dai bracciali sono stati diciamo automaticamente la posizione quantomeno è stata automaticamente in seguito scusa se ti interrompo relativamente il nostro operatore fortunatamente è andato con una mappa e se li ha segnati perché all'interno del centro storico il GPS magari non era così corretto è capitato anche che alcuni cestini comparissero a Livorno però va bene l'avevamo segnato e li abbiamo corretti però sì sì questo è vero cioè avevamo messo in conto la possibilità appunto di modificare anche la posizione del cestino perché appunto ipotizzavamo che nel centro storico con le mura ci fosse appunto quantomeno quell'effetto canyon per cui magari la posizione non è non viene acquisita correttamente dal bracciale e poi vabbè a parte ci saranno altri problemi non so quelli l'avevamo messo in conto l'abbiamo corretto il nostro operatore si è messo qui dopo averli letti e li ha ricorretti il giorno successivo e ha rimesso tutto tutto in fila poi tornando indietro non so se di lì volevi far vedere qualcos'altro Rossella dimmelo perché io qui ci sono invece i percorsi di raccolta e quello di correzione un progetto interessante quello di correzione degli indirizzi per da questo un po' l'abbiamo anche già visto quindi come preferisci ecco diciamo questo ci dà un approfondimento su ditemi voi noi la panoramica l'abbiamo fatta se poi avete delle preferenze ora ecco è un po' lento ecco queste sono le tre zone di raccolta ci sarebbe anche l'oltre ma quello lo gestisce una nostra una cooperativa e quindi non non lo gestiamo noi a livello logistico direttamente quindi non l'abbiamo inserito all'interno dei progetti ora su un mando ancora dovrebbero oppure è dipendente solo dalla scala la visualizzazione vediamo quello che c'era anche quelli col cerchio verde collimano con il gestionale quelli per esempio il 380 non è che sia un errore magari è nel database del sit però non è un'utenza mai stata attiva censita nel nostro database quelli che non tornano sono quelli arancioni i codici zero in effetti oppure ci sono anche il problema anche di alcune l'abbiamo trovato anche in alcune corti o purtroppo sì che al cui interno era complicato o altri anche corti che sono di angolo fra due vie sono state codificate magari da un lato con il nome di una via con il civico il numero di quell'altra e dall'altro con il nome dell'altra via un po' sono errori nostri un po' sono errori di come sono stati registrati anche sul sit però le casistiche ce n'erano un po' e quindi il nostro lavoro bisogna andarci a mio avviso in maniera certosina facendo una verifica e anche una corretta ubicazione dei civici perché a volte non è neanche così banale poi Rossella se vuoi dire qualcosa io qui abbiamo non ho sì sì direi che abbiamo visto un po' tutto mi chiedevo se qualcuno avesse delle domande oppure semplicemente volesse fornire punti di vista o altre esperienze su attività simili non siamo tantissimi o si può scrivere in chat che eventualmente si può aprire anche il microfono ecco è abbastanza gestibile il chat sembra che nessuno si voglia proporre per raccontarci qualcosa e nulla direi che da parte nostra abbiamo raccontato abbiamo raccontato un po' tutto poi vi ringrazio ovviamente per la disponibilità e comunque per la fiducia che ovviamente da un anno riponete riponete noi e speriamo di continuare di fare un secondo un secondo job break in cui parlare degli aggiornamenti o dei miglioramenti diciamo che avremo apportato magari tra un anno ai strumenti che attualmente sono in uso detto questo direi che abbiamo guardato un po' se volete aggiungere qualcos'altro siamo qui altrimenti direi che ci possiamo anche salutare e chiudere con 5-10 minuti di anticipo ecco va bene allora direi che vi ringrazio ulteriormente e ci sentiamo poi per per aggiornamenti ecco se volete ci risentiamo magari anche a telefono questo lo dico a Giovanni e Maria Teresa per un'altra questione e salutiamo tutti gli altri va bene va bene grazie Rossella buona giornata arrivederci grazie anche a te ciao ciao grazie Simona per i complimenti e arrivederci grazie a te Grazie a tutti